Il calendario dei vaccini in quartiere si arricchisce di nuovi appuntamenti in giro per Palermo. Sono sette le date da aggiungere all'agenda delle immunizzazioni extra hub per portare il vaccino alle persone. Stamattina il camper dell'ASP è stato all'Istituto Alessandro Volta. Domani doppio appuntamento a Mondello, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, in via Lorenzo degli Andolino, e alla polisportiva dilettantistica Calcio Sicilia, in via Gaetano, la loggia. Lunedì a Marinella, alla parrocchia Sant'Ambrogio, mercoledì all'albergheria, al centro Astalli e al centro Agape, giovedì 23 settembre al Resultana, al liceo scientifico Galileo Galilei, sabato 25 settembre, ultima tappa al villaggio Santa Rosalia, alla chiesa di Annunciazione del Signore. Gli eventi sono aperti a tutta la popolazione dai 12 anni in su, si affettuano prime o seconde dosi, basta portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per arrivare con i moduli già compilati e sveltire così la procedura. Ci si può prenotare sulla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo, oppure in alternativa, per prenotarsi, si può contattare l'Help Desk della Fiera del Mediterraneo.